L'arbitro internazionale Paolo Mazzoleni ad Agrigento per diffondere la cultura dello sport. Ieri è stato in visita alla sezione agrigentina dell'Associazione Nazionale Arbitri accolto dal presidente Gero Drago. In serata, riunione tecnica nel salone della sezione gremito di giovani, Mazzoleni ha incontrato anche alcune scolaresche a Canicattì. Paolo Mazzoleni appartiene alla sezione di Bergamo. Ha arbitrato la prima partita nel 2004, Regina Livorno. Della sua carriera si ricorda un episodio legato alla finale della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli a Pechino. Era l'11 agosto del 2012. Ritenendolo in qualche modo responsabile della sconfitta, il Napoli decise di non presentarsi alla premiazione per il secondo posto. Il Corriere dello Sport scelse un titolo clamoroso a tutta pagina, Supervergogna davanti al mondo. Oggi lei è stato con gli studenti, ha incontrato gli studenti agrigentini. Cosa ha detto loro e cosa gli hanno chiesto? È stata una mattinata intensa e piacevole, per cui abbiamo con il presidente Drago e con i colleghi della sezione di Agrigento abbiamo incontrato diversi istituti scolastici. È stata un'esperienza come al solito positiva, un'esperienza di confronto con dei ragazzi giovani, adolescenti, in alcuni casi molto giovani, che mi hanno chiesto tante curiosità e ho cercato di portare a loro senza presunzione ma semplicemente un paio di spunti di riflessione, ovvero quella che tante volte in Italia la figura dell'arbitro è bistrattata ma dietro alla figura dell'arbitro invece c'è una persona, uno sportivo, una persona assolutamente normale che tenta di fare un qualcosa che in Italia è quasi impossibile, ovvero far rispettare le regole. La seconda, uno spunto di riflessione che ho voluto lasciare a questi ragazzi è che le regole le conoscono in pochi, per cui in Italia siamo tutti calciofili e tutti commissari tecnici, però pochi ci preoccupiamo di conoscere le regole. Ecco, nel designare un arbitro si tiene conto dell'importanza di una gara? Ieri, cioè domenica, qui ad Agrigento è successo di tutto, il signor Fiorini di Frosinone è stata una giornataccia? Assolutamente sì, ci sono delle commissioni proposte che valutano il rendimento dell'arbitro, valutano la prospettiva, le capacità, il momento di forma, per cui da questo punto di vista la designazione non è un sorteggio, non è mai un qualcosa di casuale, questo a volte non c'entra con magari una prestazione più o meno positiva dell'arbitro, io adesso non so neppure cosa possa essere successo, non so nulla di questa partita per cui mai mi permetterei di parlare né del collega né della commissione che l'ha disegnato, però anche qui le dico, io penso che alla fine gli errori debbano e si compensino sempre, per cui mi piace pensare che il calcio è un qualcosa che si decide, e sono convinto che sia così, si decide per i risultati e non per una domenica felice o infelice da parte dell'arbitro. Montari si è lamentato per i cori razziali ed è stato ammonito, lei d'arbitro internazionale, come giudica l'episodio? Ma anche qui non entro nel merito, dico solo che ne parlavo prima con i miei colleghi, io vorrei un calcio e sogno un calcio dove gli episodi razziali non ci siano più, per cui se stiamo ancora parlando nel 2017 di un giocatore di colore che viene bersagliato dal pubblico è perché la rivoluzione culturale che le dicevo prima vuol dire che è ancora molto lontano, che debba ancora partire, per cui io mi auguro di non dover più commentare, che nessuno debba più commentare episodi del genere che sono assolutamente censurabili. Quando sono stato eletto presidente ho cercato di alzare il livello didattico, tecnico e non solo, anche umano, degli ospiti della sezione, appunto per far crescere quello che è il gruppo degli arbitri agrigentini. Stamattina tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di far conoscere Mazzoleni anche al territorio agrigentino.